Siamo, ripeto, in una situazione di emergenza nazionale e Venezia deve fare la sua parte. Chiaramente in una situazione dove non si devono poi portare delle fantasie, leggevo oggi il presidente della municipalità di Mestre Centro, Venturini, come l'ex assessore Bettin dire di avviare queste persone, queste migliaia di persone a livello nazionale a lavori socialmente utili, a lavori pagati dalle amministrazioni. Beh, io devo dire che oggi la situazione del lavoro in Italia, a prescindere dalla presenza di queste persone, è talmente drammatica che se c'è del lavoro, prima di tutto diamolo ai nostri disoccupati e a quanti sono in attesa, con famiglia, con mutui da pagare e poi eventualmente a queste persone, ma oggi proporre immediatamente questa cosa la trovo folle.